Buongiorno e benvenuti dalla redazione web della città, buon giovedì 28 maggio. Cominciamo con le notizie di oggi andando a sentire la viabilità, le notizie di oggi in collegamento con la centrale operativa del comando di Polizia Municipale di Torino. Buon giovedì 28 maggio, le notizie di oggi, rallentamenti in corso Svizzera, angolo via Nicola Fabrizzi per lavori A e M, semafori in manutenzione in via Roma, angolo via Bozzi, via Botticelli, civici 82 e 141 e largo Toscana, angolo corso Potenza con vigili in centro incrocio. Sino oggi, presso il centro espositivo Lingotto, via Inizia 294, manifestazione espositiva denominata Torino Software and System Meeting, aperto dalle 9 alle 19. Presidi fronte a prefettura, dalle 9.30 alle 13, dipendenti a Teglia di Ivrea, dalle 16 alle 19 il sindacato pensionato italiano CGL, dal 17 alle 20 dell'organizzazione sindacale RDB Cube. Mini Olimpiade, l'ultimo giorno, alla circoscrizione 5, presso il campo di atletica Rubertex di Piaveronese, angolo via La Vistura, manifestazione riservata ai ragazzi delle scuole elementari e medie. Udienza, processo Tissian Group, alle ore 9, al pala giustizia ricorso Vittorio Emanuele, 130 alle ore 19, in corso Vercelli 15, consiglio di circoscrizione al quartiere 7, Aurora, Banchiglia, Madonna del Pidone. Dalle 21 alle 24, nell'area Pedonale di Gliudinanni, ultimo giorno della manifestazione ottavo festival del teatro di strada. All'Igotto Fiere, Artò, salone delle attività artigiane, sino a domenica 31 maggio. Orari 16.22, giovedì e venerdì, 10.22, sabato e domenica. Alle ore 20.30, processione parrocchia Immacolata Concezione di San Donato, da via Lechiuse, angolo via Saccarelli, per via Chiuse, via Vagnone, via Pinelli, via Sobrero, via Pacinotti, via Saccarelli, via San Donato, sino alla parrocchia. Alle 20.45, dalla chiesa via Bardonecchia 85, cammino di preghiera, percorso Monte Cucco, via Giovanni Fattori, e si conclude al campo sportivo della parrocchia San Benedetto Abate, con ingresso via Monte Asolone. Nella notte prossima, dall'unale terra, con seta chiusura e sottopassolanza, corso massimo d'azeglio, per operazioni di pulizia meccanizzata. È tutto, buon viaggio. Grazie, grazie Walter. Noi possiamo vedere la situazione del tempo oggi in città, la rilevazione dell'ARPA Piemonte che trovate sulla nostra home page, delle ore 8, ci dà cielo sereno, temperatura intorno ai 20 gradi di poco superiore, un'umidità del 59%, siamo sui valori di ieri sostanzialmente, un'umidità leggermente più alta. Le previsioni per oggi sono, come vedete, di cielo sereno, avremo una bella giornata, non raggiungeremo temperature eccessive, dovremo attestarci intorno ai 25-27 gradi nel pomeriggio di oggi. Andiamo a vedere gli appuntamenti istituzionali previsti per questo giovedì 28 maggio. A Roma, a Lanci, in via dei prefetti, il Presidente del Consiglio Comunale, Giuseppe Castronovo, partecipa al direttivo nazionale del Lanci. Verrà, si è riunita, anzi da pochi minuti, in Sala Orologio Palazzo Civico, la sesta commissione consigliare, argomento del giorno, l'interpellanza relativa all'irrigazione insufficiente negli orti urbani in strada dell'arrivore. Alle 9, anche sempre in all'UMIC di Corso Lombardia, 190, l'inaugurazione di B2B Creare Mercato, un evento organizzato da APID, Imprenditorialità Donna. Alle 9.30, quindi tra pochi minuti, nel padiglione 5 dell'ingottofiera, la tavola rotonda dedicata alle tecnologie ICT e all'opportunità per le imprese nell'ambito della manifestazione Torino Software and System Meeting. Alle 10 avremo, nella Sala B di Via Corte d'Appello, numero 16, il Seminario del Ministero dell'Ambiente sul Patto dei Sindaci. Vi segnalo poi alle 11.30, all'ex OGR in Corso Castelfidardo, numero 18, la conferenza stampa di presentazione dei World Air Games. Alle 12, alla Fondazione 107 di Via Sansovino, la conferenza stampa per la presentazione di Aest di Niente, Arte Contemporanea dell'Asia Centrale Post-Sovietica. Alle 12.30, all'Hotel Meridien, all'ingotto, la conferenza stampa di presentazione del programma dei concerti dell'ingotto. Infine, questa sera, alle 19, al Circolo della Stampa, la tavola rotonda sulla crisi economica con la partecipazione del Sindaco. Sindaco che ritroviamo anche nelle notizie di Torino Click, la nostra agenzia quotidiana che ogni sera viene pubblicata in formato PDF all'indirizzo che vedete ora in sovraimpressione, dicevamo del Sindaco, perché ieri c'è stata la presentazione ufficiale del Festival Mito Settembre Musica, il Festival del mese di settembre a cavallo tra le città di Milano e Torino, il Sindaco si è recato a Milano per la presentazione in compagnia del collega Letizia Moratti. Mito sarà l'evento caratterizzante delle due città nel mese di settembre, sono più di 213 gli appuntamenti in cartellone, sotto la mole saranno 46 i concerti di musica classica e 21 i concerti di altri generi musicali. Si comincerà il 3 di settembre con la grande inaugurazione torinese con l'orchestra filarmonica di San Pietroburgo diretta da Yuri Temirkanov e poi questo concerto si inserirà all'interno di una mini rassegna all'interno del cartellone di mito dedicata interamente a Prokofiev. Altri importanti artisti che si presenteranno a mito sono l'orchestra nazionale di Santa Cecilia, la Royal Philharmonic Orchestra con il violino di Salvatore Accardo e l'orchestra sinfonica della radio svedese diretta da Daniel Harding. Vi segnalo poi l'evento di massa che sarà quello al Palo Olimpico di Corso Sebastopoli dove l'orchestra della RAI diretta da Petrenko eseguirà la nona sinfonia di Beethoven. Vi ricordo che da ieri è possibile rinnovare il carne e oro per l'anno 2008, per l'edizione 2008 di mito, le nuove sottoscrizioni saranno dal 13 giugno, dal 20 giugno poi vendita libera dei biglietti per tutti. Andiamo a vedere le notizie dal web della città, vi segnaliamo la notizia relativa al servizio civile per giovani immigrati perché la città propone a 20 giovani immigrati di seconda generazione che non siano ancora cittadini italiani, età compresa tra 18 e 25 anni, risiedano a Torino di svolgere 12 mesi di servizio civile volontario. Il compenso è 350 euro mensili, la scadenza per le domande il 10 giugno trovate dalla notizia tutti quanti i riferimenti. Chiudiamo con le webcam, andiamo a vedere la situazione in città, qui siamo in piazza Palazzo di Città, in pieno centro, vedete il sole che filtra questa mattina sulla piazza. Ci spostiamo poi di poco perché qui siamo con l'inquadratura dal centro cittadino, dalla sede di via Meucci, vedete la foschia di questa mattina. Per quanto riguarda il traffico, questo è l'incrocio Corso Agnelli-Corso Cosenza, zona sud della città, come vedete dai quadranti in alto a sinistra e in basso a destra, abbiamo del traffico in direzione Lingotto su Corso Agnelli e in direzione ovest su Corso Cosenza, quindi venendo via, per così dire, dall'Ingotto. Dalla rotonda autostrade nella zona nord della città, verso la Torino-Milano, qui non abbiamo problemi di traffico, vedete, tutto scorre agevolmente. Grazie allora per averci seguito in questa nostra prima edizione di oggi, grazie a Mario Parena per la messa in onda, a tutti voi l'augurio di una buona giornata. Grazie a tutti.